A piedi o in bici per chiedere le bonifiche dei siti individuati come contaminati da cromo esavalente. Torna sabato 21 ottobre per il secondo anno consecutivo in Valdarno l'appuntamento con la camminata e pedalata Liberi dal Cheu. Una manifestazione organizzata da Lega Ambienta assieme ad altre associazioni del territorio, nei luoghi dove l'indagine della DDA di Firenze ha riscontrato la presenza di Cheu, scarto delle concerie, per tenere così alta l'attenzione sugli sviluppi dell'inchiesta, sulle bonifiche da effettuare, ma anche sul rischio di infiltrazioni mafiose sul territorio. L'inchiesta aveva toccato direttamente anche il Valdarno, sia per quanto riguarda l'inquinamento ambientale che per il possibile coinvolgimento della criminalità organizzata di stampo mafioso. Nei siti contaminati è stata constatata la presenza non solo di Cheu, ma anche principalmente di arsenico in concentrazione notevolmente superiore a quella consentita dalla legge, molto probabilmente proveniente da scarti di industrie orafe. Lo scorso febbraio l'autorità giudiziaria aveva affidato a un amministratore l'avvio delle bonifiche delle aree contaminate. Qualche settimana fa si era così conclusa la messa in sicurezza dell'aria dell'impianto Le Rose nel comune di Bucine. La camminata prenderà avvio alle 9 da Piazza della Pace di San Giovanni per poi percorrere un anello di 9 chilometri del sentiero 35 Cai. Per la pedalata invece l'incontro è sempre alle 9 ma alla stazione ferroviaria.